Ieri direzione provinciale del Partito Democratico, oggi direzione locale. Quali sono i temi più importanti che avete portato ieri e che oggi porterete sul tavolo? I temi sono ripartire sull'unica cosa in cui noi possiamo ripartire, che è la politica, l'attività, dopo una sconvizza che abbiamo registrato ma da cui ci vogliamo immediatamente emancipare. Un PD compatto oppure ci sono, come più volte sottolineato, a Gela due anime? No, il Partito Democratico è sempre uno, poi c'è chi ha fatto scelte diverse, lo rispettiamo ognuno per la sua strada. Guarda, noi subito, già a gennaio, ripartiremo con un grande convegno regionale insieme allo Svimez, a presenze regionali e nazionali, per parlare di Gela e di Mezzogiorno. Ecco, si è parlato tante volte della crisi galoppante a Gela. Quali sono gli sviluppi che il PD sta portando realmente in città? Siamo di fronte a una crisi che non ha precedenti nella storia recente e siamo di fronte a una situazione anche politica ingarbugliata. Il PD ha avuto sempre una posizione certa rispetto a questi eventi, che è quella che la visione industriale della città deve continuare a rimanere e che questa città deve continuare a mantenere un ruolo da protagonista sia nello scocchiere regionale che in quello del Mezzogiorno. Perché riteriamo che Gela meriti di essere al centro dell'attenzione di qualsiasi governo dovesse nascere, anche in prospettiva e rispetto anche al governo attuale. Ma guarda, il PD ha fatto una scelta dopo quel congresso, che è la scelta di stare in mezzo alla scelta e di fare iniziativa politica. E su quello noi non retrocediamo, anzi continuiamo e rilanciamo. Ultimamente è nato a Gela un nuovo soggetto politico che fa capo alla sindaco domenico messinese. All'accelerta ai rapporti? Tutti sanno il mio giudizio. Io ho un'idea della politica che è quello che i partiti devono rappresentare interessi generali. Tra l'altro rispetto a una crisi così profonda e così radicata, e l'ho detto là anche in quella sede, io ritengo che la risposta siano i grandi partiti e i grandi movimenti che rappresentano gli interessi generali, non gli interessi particolari e di piccole comunità. Quindi il mio è un giudizio di grande rispetto per qualsiasi soggetto democratico nasce, ma se devo dare un giudizio specifico, il mio giudizio è di quantomeno di perplessità nel rispetto di un soggetto politico che è nato. E in merito ad un giudizio che invece lei dà all'amministrazione cunale, considerato che siamo quasi a fine anno, si fa sempre un bilancio? Tutti sanno che più che la mia posizione, qual è la posizione del Partito Democratico, e qual è la posizione che sia la direzione del Partito Democratico. E coerentemente il gruppo in consiglio del PD ha sempre avuto, che è un giudizio sostanzialmente negativo, noi riteniamo che la città abbia bisogno di maggiore slancio, di maggiore convinzione, e soprattutto caro direttore io sono convinto che questa città abbia bisogno di maggiore coraggio, perché quando c'è una crisi così profonda e così drammatica, la politica deve avere coraggio e forza per superare una situazione così complicata. E soprattutto ci vogliono quelle forze politiche che abbiano rapporti anche sul sociale e nei territori, che possono avere riferimenti soliti a livello regionale e nazionale. Quello che le posso dire è che il Partito Democratico non si sottrarrà mai alla scommessa di sostenere questa città.